La Lui di Biarese e De Monte Tricolori di Petanca due squadre cunesi Biarese, De Monte e Vallemaira di Tronero A bocca asciutta ma con due ottimi secondi posti sono rimasti quindi i liguri del San Giacomo d'Imperia che erano riusciti a piazzare due squadre la maschile e la femminile nelle finali playoff giocate alla bocciofila novella di Cuneo un finale perfetto quindi per tutto il movimento cunese della Petanca che si riconferma provincia leader della specialità in Italia Qui alla novella bocciofila di Cuneo l'avamo anticipato qualche mese fa se sarebbero disputate nelle finali ed oggi è quel giorno, un giorno tanto atteso per gli amanti di questa disciplina Lei è assessore di questo comune e quindi quale soddisfazione è per la vostra città ospitare questa manifestazione? Per noi è una grandissima soddisfazione e abbiamo apprezzato molto il lavoro fatto dalla novella per preparare l'impianto dalla federazione bocce provinciale perché questo è un impianto peraltro anche storico la società bocciofila novella ha più di 130 anni di storia quindi da quel punto di vista lì oggi non è operativa con una squadra però come impianto e come struttura è sicuramente il migliore impianto della città di Cuneo è uno dei migliori del territorio cuneese quindi lo ritengo assolutamente degno di poter ospitare una manifestazione come questa Florian Comet lo abbiamo visto nella prima parte della nostra trasmissione nel suo tiro tecnico di precisione che ha dato i primi due punti alla Biarese che gara è stata la sua? Ma diciamo che ero abbastanza teso per il fatto che quest'anno non l'avevo ancora mai fatto il tiro di precisione è stata la prima volta però diciamo che è andata bene è andata bene abbiamo sentito da Claudio Mammino che lei è stato anche in nazionale ha avuto nella sua carriera alti e bassi adesso sta ritrovando la sua forma migliore sì infatti avevo smesso per un paio di anni di giocare e poi ho ricominciato perché in fondo mi piace quindi ricominciamo ho trovato una bella squadra e ce la mettiamo tutta la Petank attualmente in Italia pur non avendo dei numeri eccessi quindi partiamo su un 4, 4, 5 mila tesserati Petank però riusciamo a portare nel mondo e dobbiamo dirlo con molta soddisfazione dei giocatori di altissimo livello giocatori che sono riconosciuti fra i migliori al mondo Francesco Falco è il candidato al comitato provinciale di Cuneo abbiamo visto, ascoltato il suo intervento e in finale ha fatto una raccomandazione a tutti i giocatori rispettate i direttori di gara rispettate il gioco e rispettate soprattutto gli avversari sì, questa è una raccomandazione che in genere mi piace fare perché innanzitutto stiamo facendo sport stiamo facendo attività agonistica e come è giusto che sia bisogna rispettare il direttore di gara qualunque sia la decisione che prende una decisione va rispettata va rispettata negli altri sport e anche nelle bocce altra raccomandazione rispettate il gioco della Petank il gioco Petank è uno sport ha le sue regole con il gioco si intende anche i regolamenti e proprio il condurre l'andamento della partita e per ultimo, ma non meno importante anzi direi che è molto importante rispettare l'avversario qualunque sia l'avversario che sia più forte o più debole in ogni caso è un avversario che raggiunge la finale e come tale va rispettato proprio come giocatore come avversario in campo